Dall'Unione Nazionale Mutilati e Invalidi per Lavoro, una bella novità per la prossima stagione estiva, la possibilità di usufruire dello stabilimento balneare Elios di Giulianova in convenzione riservata per gli aventi diritto delle categorie sociali assistite. L'Unmil si è aggiudicato alla gestione dello stabilimento balneare per disabili sito a Giulianova Lungomare Nord e quindi annuncia, ho il piacere di annunciare che siamo nelle fasi conclusive dell'organizzazione per dare vita dai primi di giugno a una stagione importante, importante per le categorie sociali, importante per le istituzioni, importante per l'intero territorio terramano e abruzzese, importante perché? Perché il progetto prevede una serie di iniziative tematiche importanti che coinvolgono non soltanto le categorie sociali e quindi i disabili, ma anche i cittadini di ogni età e quindi siamo qui per dire che siamo nella fase conclusiva dell'organizzazione, tutti quelli che non hanno ancora fatto la richiesta di adesione e intendono farla, si debbono assolutamente sbrigare perché abbiamo già un numero elevato di aderenti ad oggi. Presidente, se ci può dire come fare richiesta? Allora, presso lo stabilimento balneare ci sono i moduli oppure qui nella nostra sede in via Francesco Franchi 25. Abbiamo così deciso di partire con sabato 3 giugno, quindi per prima vengono e meglio è.